La strana voglia di Jean, l'austerità di un antico collegio femminile scozzese e messa a dura prova dai metodi didattici di una matura ma affascinante insegnante. La strana voglia di Jean, una sottile indagine psicologica per una serata emozionante sul vostro Canale 5. Martedì 30 marzo a partire dalle 8.30 una serata eccezionale per tutti gli amici di Canale 5. Dallas, continuano le nuove avventure della famiglia Ewing. Gli Oscar del cinema, alle 9.30 via satellite dal Dorothy Chandler Pavilion di Los Angeles la 54esima edizione dell'assegnazione del più prestigioso riconoscimento della stagione cinematografica. La grande box, alle 11.30 in diretta via satellite dalla Wembley Arena di Londra Luigi Vinchillo e Salvatore Melluzzo difendono i titoli europei dei media junior dei Fiuma dagli attacchi di Maurice Hope e Pat Caudel. Ricordate, martedì 30 marzo a partire dalle 20.30 una grande serata vi aspetta su Canale 5. Davide e Bezzabea Gregory Peck e Susan Hayward danno vita ai due mitici personaggi della Bibbia i gladiatori Victor Mathur rivive l'epoca delle persecuzioni contro i cristiani Davide e Bezzabea e i gladiatori i valori assoluti delle sacre scritture per due grandi serate su Canale 5. Ogni lunedì alle 20.30 la bellezza prepotente e il temperamento di Sophia Loren in una splendida rassegna dedicata all'affascinante star del cinema italiano. Ricordate, ogni lunedì alle 20.30 Sophia Loren vi aspetta su Canale 5.